Il timballo, il re dei piatti della gastronomia terramana, sarà protagonista dell'evento che partirà domani e andrà avanti fino agosto, un evento che si terrà a Floriano di Campi. L'evento parte domani, 29 fino al 3 agosto, presso la nostra piazza Giù, l'Anfiteatro a Floriano, ci saranno sette giorni con spettacoli in tutte le sere, oltre al timballo ci saranno altri piatti tradizionali, di cui spiadine, salsicce, bistecche e altre cose. La piazza è munita di tendo struttura, se in caso di maltempo non ci sono problemi, la mia amministrazione andrà avanti. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione insieme a due associazioni del territorio? Sì, principalmente dalla prologo di Floriano e dal comune di Campi e dopo c'è un'altra associazione di Floriano che collabora con noi. Qual è il segreto di questo piatto? Il segreto di questo piatto è un piatto tramandato dai nostri nonni, quindi sono ricette speciali, ricette che nel terramano vanno molto. Ci sono anche diverse varianti? Sì, ci sono diverse varianti, dagli spiedini, salsicce, arrosto, bistecca, insomma i soliti piatti che si fanno nelle sagre.